Non è un professore, un maestro, un mistico che si allontana dalla gente e parla dalla cattedra lì. In mezzo alla gente si lascia toccare, lascia che la gente li chieda. Così è Gesù, vicino alla gente. E questa vicinanza non è una cosa nuova di Lui. Lui la sottolinea nel suo modo di agire, ma è una cosa che viene dalla prima scelta di Dio e al suo popolo. Dio dice al suo popolo, pensate, quale popolo ha un Dio così vicino come io sono con voi? La vicinanza di Dio col suo popolo e la vicinanza di Gesù con la gente.